in diretta da sanremo c'è arisa con noi ciao arisa buongiorno allora come stai e come stai vivendo questo festival ma sto bene molto bene e sto vivendo questo festival ad alti e bassi diciamo a volte molto bene a volte mi sento un po' frastornata ma va bene cioè sono contenta sei perplessa sì perché poi in generale nella vita io non sono né troppo su né troppo giù diciamo che sono abbastanza in equilibrio no no in equilibrio precario ecco però sì ascolta ieri è uscita lentamente sì è stata votata contro vento dimmi se il pronostico che avevi in mente anche tu oppure no sì sì ho vinto 50 euro tra l'altro con chi esattamente ecco un discografico no un amico sì più o meno più o meno l'ex fidanzato quanto ne vuoi sapere ecco sì mi facevo un po di fatti tuoi adesso smetto subito che cosa ti aspetti da questo festival e mi aspetto che contro vento entri nelle case di tutti e nel cuore di tutti e che il testo il suo testo sia come dire importante per per le persone perché dice comunque ha un significato molto alto secondo me questo lo dico sempre da quando l'ho ascoltata la prima volta questa canzone dice io ci sarò qualunque cosa accada nella tua vita ti sarò vicino e penso che in questo momento le persone vogliano cantare questo perché spesso non hanno le parole per dirlo e vogliono vogliono sentirsi dire quello e perché è difficile insomma invece noi con la musica dobbiamo dare delle dobbiamo tradurre i sentimenti delle persone dobbiamo trovare le parole giuste per una comunicazione distratta ma efficace quello che tu non riesci a dire attraverso una canzone sei capace di veicolarlo finalmente con una rivelazione quasi io dico sempre che in realtà una una canzone è una confidenza una confessione che magari tu non riesci a fare al tuo vicino di casa però nel mio caso per esempio io ho scritto delle canzoni che canto solo nei live che non ho inciso e che confesso solo alle persone che mi vengono a vedere per dire perché perché ma io non ti vengo a dire magari se sto particolarmente bene se sto particolarmente male però scrivo una canzone e da lì si può intuire e da lì si crea una relazione più stretta molto più stretta il controvento come è nata ad esempio controvento è una canzone che è stata scritta da giuseppe anastasi che è l'autore sia di sincerità che di malamore no che della notte e di tutte le canzoni che ho cantato fino ad ora e diciamo è una canzone che parla di vicinanza ci siamo lasciati con la notte in cui si diceva l'amore può allontanarci la vita continuerà e controvento parla della vita che rimane cioè al di là dell'amore quello più ravvicinato c'è un amore di presenza di vicinanza di amicizia di sostegno e questo quello che delle volte ci si promette quando finisce una storia e non si riesce poi a mantenere ma sì ma in realtà vedi abbiamo questa roba della canzone perché nella realtà nella realtà non c'è c'è non c'è vicinanza però questa canzone è il simbolo che un pensiero c'è che è una vicinanza c'è un affetto c'è ed è bello e io anche voglio dire anche miei genitori al alle mie sorelle no alle persone alle persone mi piacerebbe essere in grado di mantenere questa promessa e di esserci perché è bello esserci bellissimo grazie grazie davvero mi hai emozionata con queste con queste parole mi sono emozionata anch'io arisa allora torniamo alle cose frivoli allora ieri ti sei presa della gnocca sul palco tutto fuori tutto tu vorresti che io guardassi dritto vero sì sì ieri ho messo fuori la mia merce la tua merce hai esposto tutta la mercanzia sì ho messo il pesce sul banco e come è andata è andata bene mi hanno detto tutti cioè insomma qualcuno ha detto arisa che ti è successo dove ce le avevi ma in realtà avevo avevo me l'ho vista in camerino e mi sembrava che fosse tutto abbastanza tono su tono invece poi con le luci della ribalta così così dici si vedeva insomma questo vabbè ho fatto una buona pubblicità alla perla ma sì stavi benissimo poi ci vuole adesso mi manderà un camion di mutande ecco te lo auguro perché sono tra l'altro bellissime senti un'ultima domanda gli ascolti hai visto che sono un pochino in calo rispetto all'anno scorso quelli della prima serata e qualcuno tra i nostri ascoltatori dice non viene valorizzata a sufficienza la musica sei d'accordo allora sinceramente oddio perché mi hai chiesto senza metterti nei guai ma sinceramente allora io penso che i brani due avere diciamo una gara sì c'è questa cosa però portare due brani solo la prima sera e diciamo fa capire un po del del progetto ma non è abbastanza esaustiva come cosa secondo me tutti quanti dovremmo portare due brani per tutte le serate e quindi togliere un po di tempo a siparietti vari io non lo so perché guarda io il festival in generale quando faccio saremo non riesco a vederlo e l'anno scorso è capitato anche che non sono riuscita a vederlo perché ero fuori però in realtà non lo so cioè secondo me a me è dispiaciuto per esempio perdere una canzone durante perché per esempio la verità è questa il controvento è una canzone che poteva avere un un riscontro radiofonico anche dopo invece lentamente è una canzone adatta al festival cioè che io ho voluto cantare per il festival no per far suonare l'orchestra in un modo sai come una vera orchestra cioè loro sono una vera orchestra però sai i timpani no c'è tutto 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 ed era una canzone che secondo me meritava di vivere durante il festival il festival perché dopo si sarebbe stata sarebbe stata poi scelta da chi voleva sceglierla attraverso il disco no così e secondo me aveva bisogno di più ascolto mi sarebbe piaciuto portare tutte e due le canzoni per tutte le serate per tutte le serate e speriamo comunque di poterli ascoltare tanto nei prossimi mesi entrambe perché no poi è un programma televisivo quindi ci sta che loro vogliano però spettacolo soprattutto a risa grazie per essere stata con noi e noi ti diciamo in bocca al lupo crepi bye bye